Benvenuti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, oggi siamo qui tornati su Fortnite Siamo qui perchè oggi proveremo le nuove armi che sono tornate in gioco Le armi di cui sto parlando sono i palloncini e la bolla a scudo Però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare la commentare e condividere E ora possiamo iniziare Allora, sono tornate queste due armi per provarle Perchè poi tipo tra qualche giorno, in giro per la mappa, potremo finanziare una delle due armi E solo una poi ritornerà veramente in gioco Anche se, cioè nel senso, tra le due armi Quale? Adesso in questo video le andiamo a provare E poi magari faccio un altro video dove le andiamo a votare quando si potrà fare Voi quale arma voterete? Quale arma volete che torni in gioco raga? Io tra le due, sinceramente, mancano 20 giorni alla fine della season Ormai Tanto poi tolgono tutto, quindi sicuro tolgono un po' di roba Secondo me le bolle a scudo sono utili nella modalità zero costruzioni Sono utilissime quelle Però i palloncini sono anche divertenti Comunque ci possono stare alla fine Puoi scappare anche con quelli Sono utili Sì Ecco, tra i due Cioè i palloncini possono servire sia nella modalità normale Sia nella modalità zero costruzioni La bolla a scudo in realtà Pure può servire in tutte e due Però principalmente serve nella modalità zero costruzioni Perché Zero costruzioni non puoi costruire Ti butti quella La bolla a scudo ti crea una bolla di scudo Cioè Lo dice proprio il nome Che non ti possono sparare Ora sono andato a Trucciolandia Perché qua c'è un sacco di loot Vorrei trovarne una Ma Mi sa che va a finire come Come il caccia e quell'altra Che non le trovavo mai Vediamo se la trovo qui Sì, però Cioè, è rarità blu è quella roba Non è che è rarità leggendaria È rarità mitica Dici, allora Rarità blu Poi ci sono anche delle missioni Se non sbaglio, è vero? Sì, c'erano delle missioni Oddio C'è una missione che tipo Dici di usare una bolla a scudo Però ancora non l'ho trovata Eh Magari questo qui ce l'ha? Vediamo Aspetta Prima process Niente Mi tiro queste E andiamo a fightare con questo tizio qui Che magari lui Le ha trovate Non credo Dove è andato Che pallone Mamma mia Le scappano Cento colpi Eh ma sapete che È qua L'ho sentito Aspettate Ciao bello Ciao bello L'ho vissato Sono un Un pirla Ok Ce l'hai te? Eh? No Non l'ha trovato manco lui E in realtà Ma che cacchio vuoi te Ma Ma vieni qua Vado Cacchio Te scappi Fammi prendere E prendo l'MK Allora Cos'ha quello No pensavo che era la bolla a scudo Invece una tenda Ma raga voi le tende le usate ancora Io no Non uso più da un botto Ci sono un sacco di cesto qua a Torciolandia Dai raga una bolla a scudo la troverò Anche perché Secondo me comunque In realtà un po' tutte le armi Tutte e due le armi possono starci Non c'è una che fa proprio schifo C'è tra le due Dai Oh bolla a scudo Finalmente Finalmente Mi ha dato una bolla a scudo Sono due bolle a scudo Perfetto Allora non le proviamo adesso Voglio provarle Quando In un fight Quindi cerco di Trovare i palloncini Ma Mi sa che è un po' difficile Ma in realtà Cioè raga Se io adesso l'ulto per bene Siamo di safe vero E voglia Minta sto qua tutto il tempo Se l'ulto Se apro tutte le ceste Secondo me è almeno Un po' di palloncini Un po' di bolle Secondo me le posso anche trovare No guarda No niente Rift to go Però dai Siamo vicini Rift to go Palloncini Siamo più o meno lì No? Sì Ve lo dico io Qua dentro ragazzi Troverò i palloncini Vabbè La 100 colpissimi Ai palloncini Dai su Ok Qua dentro Magari troverò qualcos'altro Palloncini Vabbè Allora raga Voglio vedere un attimo Se ci sono ancora delle ceste Perché in teoria Qua dentro Ce ne sono altre Io Luto ancora un po' Spero di trovare qualcosa Spero Aspetta Apro questa cesta Un attimo Apro questa cesta Io so che qua dentro Niente Se vi iscrivete al canale Troverò i palloncini Uno Due Tre Via Guardate Guarda i palloncini In forma di Bombe Impulso Mamma mia Regà Tanta roba Vabbè dai Provo ad aprire qualche cesta E poi vi faccio sapere Un bagno Wow Ma non me ne faccio niente Dei lanciarazzi Mannaggia A voi Altre bolle scudo No non posso prenderle Allora regà Ve le faccio vedere Un attimo Tanto Per buttare Guardate Le bolle scudo Sono queste Io Se metto qua un muro Sto fuori Non li posso sparare Perché la bolla scudo Protegge ovviamente E di queste Ce ne sono due Quando le trovate Ora io le sto sprecando Così tanto E ne ho trovate altre E piuttosto che buttarle Ve le faccio vedere Un attimo Però non ho ancora Trovato i palloncini Mi sto triggerando Perché regà Ho aperto tutte le ceste E ho trovato solo impulso E qua Cioè trovo solo impulso Io mi chiedo Ma che cacchio C'ha fortnite nel cervello Ma Se mi mettete le nuove armi Ma fatemele trovare No No Mi devono far trovare Le armi Di 40 anni fa Beh Mi sembra anche giusto No Ora Là c'è una ceste Non credo proprio E io regà Ho lutato tutto L'unica cosa che posso fare Anzi Aspettate un attimo Ho visto una cosa Ho visto una cosa Eccolo lì Noi Potremo Eccolo qua il cartello Potremo iniziare a votare Il 17 maggio Ehi Tu Vota queste due armi Una delle due Tanto non le userai mai No che poi A parte di scazzare Nessuno Le userai quasi mai Però Una delle due Secondo me C'è uno Aspettate Si è fatto danno da solo Brutto lurido Si è fatto danno da solo Con la granata Comunque dai Qua c'è una cesta E sono più che sicuro Qua dentro PALLONCINI Beh Dai che Poteva andare peggio Ragazzi C'è un air drop La davanti Missione Aprire l'air drop Perché nell'air drop Ci c'è per forza Cioè Non è che Non ci Ci può O Non ci può essere Ci deve essere Ok Qua dentro Dovrò i palloncini Andiamo Voilà Che bei palloncini Che ci ho trovato E vi ti visto Che bei palloncini Non ho trovato Un casco Per non dire Altro Ragazzi Io mi sto Nel rosin Però Cioè Non è possibile Quando era uscito Il caccia Io Per tutto il tempo L'ho cercato Non ce l'ho Allora In sto video Si chiamerà Proviamo le bolle scudo Perché palloncino Non li abbiamo trovati Questo è un buon palloncino No Una bombola scudo Non è una bombola scudo È il made in navy Sono pure fuso Allora Apriamo Ma non Regà Credo che ho aperto 60 ceste Non ne ho trovato Uno di coso La Di palloncini Altro buone scudo Ma wow Ma grazie mille È il gioco del caccia Tupin Tupin Ah Mi butto un altro Giusto perché tanto Ne ho altre due Dov'è Mola Certo Qua sopra Palloncini Ci siete Mi sentite Diciamo che questi Non sono palloncini Mi sta tirando scema Sta buon la scudo Via Esplodi Mi sta pushando uno Wow Anche la squadra laser Questo mi fa il culo Lo sapete Ma invece L'ho fatto Ah Godo 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 Via Così nessuno mi spara Oh posso lutare in santa pace Grazie a Dio Regà Le bolle scudo Cosa butto giù Butto giù le mie cappa Quanti palloncini Minchia Sono tre palloncini Oh ma certo che ti potrei Vabbè Regà Le bolle scudo le abbiamo provate I palloncini Finalmente Finalmente Che emozione Tu dammi i palloncini Non mi ha dato i palloncini Mamma mia che bello Finalmente Qualcuno che li ha trovati Io ho aperto 40.000 ceste Non li ho trovati Queste sì Allora i palloncini dentro Non so quanti sono Perché questo qui li avevo già usati Però vedete Sotto nell'inventare come sono Sono strani Proviamoli Ecco vedete Sono tipo militari Capito? Allora io regà ne uso due Massimo Ma io Ma qua c'è una cesta Io ho lottato tutto sto posto E non ho aperto questa cesta Mi devo vergognare Palloncini Niente Allora facciamo una cosa Li usiamo e mi prendo questa Ok Ho l'MK vero? Sì Wow Vogliamo nello spazio Finalmente Là c'è uno Sì c'è uno Oddio Non l'ho visto Ma so che c'è uno No Esplodono Eh niente regà Non dureranno molto Questi Non dureranno molto Questi palloncini Però Dai Comunque li abbiamo provati Via Voliamo nel cielo C'è una macchina lì Macchinina Non so come faccio a prenderti Perché c'ho una mira del merda Oh Mi ha fatto boccare Mi ha boccato i palloncini Vigliacco Wow Ah ti ho preso lurdo Ah 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 Ti ho chillato E ora per vendicarmi ragazzi Vinceremo la partita Vi fidate di me? Con il palloncino attaccato No perché me lo fa scoppiare questo però Io buscio questo No Devo caricare prima che cada Ah 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 Non se ne ero accorta God Tu Cosa vuoi fare? Mi ha fatto esplodere il palloncino Tu che sei Ti deve venire qualcosa Veramente Cioè tu sei Sei nato con malattie gravi Al cervello Ma tu mi hai fatto esplodere il palloncino Io ovviamente mi dissocio Forse però C'è regà non Ma come Ma mi spieghi come ti permette Sono il lutto per il mio palloncino Ma tu mi devi sparare adesso? Chi è che mi chiama? Che mi scrive? Andati a tutto quel paese Che sto cofaitando Devo vincere questa partita The Fortnite Fornite Battle Royale E quel cos'era Non si distrugge però Oh una jump Che vuole Ma questo che cazzo sta facendo? Ah un cinghiale Oddio Oddio ma questo cosa sta facendo Che è lì che cammina Raga Guardalo lì Guardalo eh Aia Mamma mia Eh ti è Questo mi può sparare col bambafuccio Ma che problemi ha questo? Ti è Ti è ti è ti è Ma un bel tiè è lungo eh Un bel tiè che dura fino a quando non ti venga qua ecco Raga Sono E' la mia prima partita del giorno tra l'altro Abbiamo provato tutte le armi E adesso Per concludere per bene questo video Dobbiamo portarci a casa Questa partita Avete capito tutti? Anche perché mi hanno iniziato il mio pallangino E mi sono rotta le palle E quindi Dobbiamo vincere Siamo in tre Non so dove sono questi Mi sa che sono morti Nel senso Veramente morti Non li vedo C'è uno in volo È andato a prendere il mio loot Ma come ti permetti te? Spiegamelo Come si permette? Muaaaa Ah vittoria È morto Dato chi è morto? Da tempesta Muaaaa Sì Ragazzi mi hanno vinto Usando anche i nuovi palloncini Le bolle scudo E sono troppo forte Le 9 kill Ragazzi Quanto sono forti Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate like Commentate e condividete Scrivetevi nei commenti Cosa volete che ritorni in gioco Bolla scudo O palloncini Le abbiamo provate in questa partita Quindi Bolla scudo O palloncini Fatemelo sapere nei commenti Noi ci vediamo nel prossimo video Bella